Salutiamo gli amici di Verona! Ma è il compleanno di Giorgio per i suoi 64 anni! Via! Bello in discoteca tutto duro che morirà nel parcheggio! Giovanni duro! A 60 anni! Ciao ragazzi e bentornati su Serink, il canale che parla di tatuaggi a 360 gradi. Oggi abbiamo ancora con noi il nostro amico Paolo. Di nuovo ciao a tutti! Oggi perché è sempre lo stesso giorno tra l'altro. Probabile! Abbiamo perso ormai il tempo. Andiamo a vedere la puntata. Vi andiamo. Settimo episodio di L'Incubo di Tatuaggio da Incubo. Sigla! Nuova cliente! Insieme ci chiamano Peles. Oh è carino, mi piace! Dire che mi interessa meno 14 di quello che devono dire loro? Ah sicuramente! Galuffa, vorrei entrare in polizia e non posso avere un tatuaggio che inciti alla violenza. Cazzarola si è tatuata per incitare la violenza. Tra tutti gli emoticon perché proprio questo? Lo so. Perché le emoticon uno c'era la pistola. Basta Paolo. Via. Per fortuna non è grande. Hai già un'idea di cosa vorresti per coprirlo? Pensavo a un elefante in stile mano di Fatima. Un elefante con una mano di Fatima. Devo disegnare qualcosa, d'accordo? Quando hai capito chi avrebbe ostacolato la tua carriera? Beh, quando ho cercato i concorsi per entrare in polizia. Online c'era scritto tatuaggi ammessi. Ho pensato, ottimo! Poi ho letto meglio e aggiungevano, purché non inneggino alla violenza. Oh no! Ho pensato che se voglio entrare in polizia non posso mentire. Allora, ho fatto una mano di Fatima con un bel elefante. L'elefante è all'interno e ho pensato che uno di questi pollici potrebbe coprire la pistola. Sì, mi piace l'idea. Cinometrica sono molto malo. La domanda è, un pollice copre la pistola? Quindi tutti gli altri pollici saranno neri come quello? O ne fa uno nero e gli altri chiari? Sì, certo. Cominciamo subito. Bene, ci vediamo dopo. Quindi invece che un pollice nero avrà cinque macchie nere. Ma poi perché una roba così speculare, così quasi... Io ho paura, assettica in un punto... Io ho paura per quell'elefante lì. Dallo stensile. Altro poverino. Altro cliente. Altro... È già ciondola, come dire... Cosa mi succederà qua? Ma perché sono qua? Ma perché? Per fortuna che mi pagano. Ciao. Ciao. Piacere. Lui e Arley. Piacere Arley. Ogni tanto mettono la gona di pelle. Ogni tanto proprio. Eccolo. Beh, veramente ho fatto un corso di tatuaggi. Eccolo. Diciamo... In uno studio? Sì, uno buono. Bene, bene. E sei entrato lì poi. Te ne intendi. Dissegnami quello che vuoi. Ha disegnato per due ore. E... Ecco la sorpresa. Gli ho detto... Niente pupazzi, niente di simile. Me ne ha fatti ben due. Ma ti ha scostato proprio. Ci mostri questi pupazzi? Sì, certo. Tremo. Solo l'enicnista. Cosa? What? What the... What the... Però io un tatuaggio così simpatico io me lo terrei. Beh, io il micio sul tapezzo... Quello era il più bello. Con cosa vuoi coprirlo? Ho una passione per il Giappone. Mi piacciono le carpe Koi, i draghi, i gigli, tutto. Bello anche l'opera sul collo, fine. Ha usato un ago del 35. No, lì avrà usato un 5, un 7 linee e poi è scoppiato un po' tutto. Ogni riga ha un mignolo. Ho fatto una carpa. Allora, copriremo quei due pupazzi e con i contorni copriremo anche la scritta poteto. Ti piace? Sì, molto. Ok? Sì. Cominciamo? Sì, andiamo. Ottimo. Mi piace il giapponese che ha fatto una carpa che di giapponese non ha niente. Infatti, mi piacerebbe il Giappone. Cioè, la carpa Koi dove sul tradizionale lì vai sul sicuro e no. Mi piacerebbe il giapponese. Niente. Non ho visto una squama che era una. Ok, era l'ultimo punto. Davvero? Come ti senti? Bene, voglio vederlo. Ok, viene allo specchio. Oh, che bello. È fantastico, davvero. Riusciremo a... Posso bestemmiare? Riusciremo a trattenerci mai su un commento? Una alla volta. Vai, vai, vai. Inizio io. Per forza. Ho visto prima il suo stencil e lei ha detto che con un pollice avrebbe coperto la pistola. Ok. Invece non ha usato il pollice, perché sforava anche sull'elefante. Quella outline lì bianca, con sotto la pistola. Quanto dura? Sei ore. È il tempo della doccia. Che si lava. L'ha tagliato col bianco, una figura con l'altra, ma sotto c'è il suo, vecchio. Ma? E sotto alle foglie lì? Non esce, secondo te, la pistola? Sì, sicuro. Ma poi, scusa, vogliamo guardare un attimo le ombreggiature. Cioè, non hanno molto senso tra di loro. A parte l'effetto muffa intorno all'elefante, perché il puntinato è un'altra cosa, raga. Il puntinato, se volete, vi metto 70 immagini diverse, ma questo è muffo. Questo è muffa. Però, però, però. A parte le puntinato sembrano tutti delle piccole, dei prepuzzi, dei piccoli prepuzzi. Ok. Ma la linea del dito medio? Eh. Tutto bene? No. Ti ricordi quando eravamo agli inizi che parlavamo delle linee del terrore? Ma cos'ha, star mutito? E c'è! E' suonato il telefono? Sì. E' successo. Guardiamo bene. Allora, a parte che non c'è una linea, i fiorellini che gli ha fatto sulle dita, non si assomigliano neanche minimamente l'una all'altra. Anche le linee del pollice. E' già, è deforme adesso il tatuaggio. Non troviamo scusanti sul gonfiore. Punto. E' già deforme adesso le tre dita in alto. Non dire così che io l'uso sempre, la scusa del gonfiore. Eh, è un po' storto perché è gonfio, poi va a posto. Ok. Però, cioè, fai una linea a un pelo più spessa, se già con una linea sottile così non ti viene. Ti giuro che è la mano di Fatima più brutta che l'abbiamo mai visto. Sicuro. Da una robina che si vergognava così, che poteva passare in secondo piano, cioè con un fiorellino proprio buttato lì così, glielo copriva con quattro foglioline, gli ha fatto una spatacca. Più che mi faceva una macchia, l'inchiostro. Una macchia. Sì. Un pallino nero. Ma no. Beh, ma quante cose potevi fare? Quella pistolina lì potevi fare veramente se una... Detto questo, in tutto il dubbio, se non mi prendono perché c'è questa roba qua così piccola, io, io Sergio, io mi sparavo un laser. Ma io ho tatuato molti... Io facevo un laser, me lo levavo dalle balle. Ah sì, per una roba così piccola. Fine. Andiamo avanti. Ben va. Non devo piangere. Non da piangere. Mai visto niente di simile. Che dettaglio. E siamo in due a non aver mai visto niente di simile. Dove fosse la pistola. Che dettagli. Sembra una manata... Non capisco dove fosse la pistola, per forza hai quattro metri quadri di tatuaggio adesso. Sul posteriore dell'elefante. I dettagli sul posteriore dell'elefante. Le righe spaccano, eh. Da solo vista da vicino. Spaccano. Fa impazzire. È un capolavoro. Sembra l'elefante... È un capolavoro. Cioè senti sotto da sole che cosa si dicono? È pazzesco, pieno di dettagli, mi fa impazzire. Sì, continua a non nutrire il proprio ego in continuo davanti al cliente. La tatuatrice mi fa impazzire, ha detto. Cioè, dovrebbe essere il tatuato che ti ringrazia. Altro cliente. Ciao, ciao. Sono Martin. Lei è Alice e noi scherzo. Ciao. Come va? Siediti. Sulla poltrona. Come va? Bene. Devo sbarazzarmi di un tatuaggio orrendo. Possiamo vederla? Sì. Bene. Siete pronti? Sì. Vado. Sì, ma questi qua secondo me non hanno fatto neanche un po' di gavette in uno studio serie. Ma va. Perché nessuno gli va a dire fai realistico se non sai neanche tracciare due linee. Vedete anche voi quello che vedo io? Sembra. No, non ti ha detto che è realistica, hai detto che lo vuole realistico. Questo sembra un testo. Ma per lui è realistica. Trucca visto di schiena. La testa sparta. Con cosa lo copriamo? Un paio di idee ce le ho. O un pirata o un personaggio di Ghostbusters. È grande. Fai gli slimer, fai gli slimer, fai gli slimer. Verde fluo. Prego. Verde fluo. Fluo proprio. Asmeno. È vero, sono bianchi. Come? Ok. Sì? Grazie. Ma ci vuoi stare un po'? Sono bianchi? Come di solito loro col bianco coprono. Una volta che vi arriva un fantasma bianco non lo volete fare. Essere gettata in mare. Così ho disegnato una nave. La faremo molto scura, Cuba. In un mare nero e tempestoso, con tanti nuvoloni. Voglio capire dove ce l'avete. Io invece ho pensato a un pirata cattivo. Gli manca un occhio e ha una bella cicatrice in faccia. Beh, l'ha disegnato. Non l'ha ricercato dal pirata dei Caraibi. No, no, no. Ci assomiglia vagamente. No, lui ha disegnato un pirata. E vagamente assomiglia a quello dei Caraibi. Questo si chiama casualità. Casualità. Questa è una casualità. Iniziamo subito. I pirati sono contenti. Ma che capelli strani ha? Tutto stempiato, poverino. Sembra che gli ha scoppiato un petardo in testa. C'è un riporto che se lo porta avanti sennò si vedrebbe l'attaccatura alta. Ti ricordo che Sketch non fa i real. È l'altro che fa i real. Ah, ok. Sei pronto? Ok. E cosa c'è di più giapponese di una bella Carpacoi? La tua futura moglie? Eh sì, soprattutto la tua. Che cosa c'entra? Che col giapponese non c'entra niente. Un K. Un K. C'è neanche cultura generale. Nulla. Vediamo? Sì. Oh, accidenti. Ti piace? È bellissimo. Mai più potato, capelli dritti e faccia da stupidi. Basta capelli dritti. È splendido. Cosa c'è di Koi e di Giappo in questo? No, no. Cosa c'è di Koi? La Koi. Lei in quanto Koi. Ok. Cosa c'è di giapponese? Cosa c'è di giapponese? Quando mai hai visto uno sfondo così nel giapponese? Quando mai l'hai visto un movimento in negativo? Adesso io faccio una stampa. Sì. La porta, se tu con me escono a Milano guardo tutti i giapponesi e dico questa non è qua il giapponese. Ma solo che ti vedono in mano con quella possono pensare che l'hai fatta a te e ti fanno uscire. Sì, sì, sì. Proprio un macchione. Ma poi si vede sotto. Come fai a coprirlo col bianco e nero e riempire di righe bianche? Il tatuaggio c'è stato il bianco uscirà tutto. Tutto. Ma poi nel tradizionale il bianco non si usa appunto che sia giapponese. Questo non è tradizionale. Lui dice vuoi un giapponese e a me viene in mente il tradizionale. Ma no, ma dai che ne so un giapponese è tutto. Cioè, gli ha asfaltato una macchiata di colore quello tra qualche anno sarà tutto nero. Sì, ma poi sarà tutto nero. Sì, si ritroverà una macchia di lineata. Perché gli ha lasciato dei bordini sulle squame di un millimetro bianco ma quando spanderà il colore diventa una una coia nera. Martin si è presentato io ho paurissima per questo. Non so neanche se ho voglia di affrontare. Riesci a tagliare e lasciare il labiale di quello che posso dire? No. Perché secondo me qua no. Metti un bip qua perché qua un bip viene fuori proprio. Dai, ma di cosa stiamo parlando? È sparita. Cioè, un tatuaggio da denuncia. Tu mi copri così io ti denuncio. Mi paghi... Guarda, ma che nero. Grazie. Grazie. Ok, grazie Sergio. È stato bello. Ma che roba brutta è. L'unico l'unico pirata con l'occhio di vetro marcio. Ma dai, ma poi è sotto l'occhio. Ma che problemi ha a centrargli l'occhio con le cover? No, ma sai la disperazione? Dile. Wow. Ottimo lavoro. Cioè cosa c'è di ottimo? Ma io non so l'infezione che vi verrà sarà ottima. Non so dove non si vede. Poi vieni da me e applichiamo... Se volete in questo vi faccio un cerchio rosso in tutto il tatuaggio. Piacere. No, poi da proprio far capire... io non so dove dire dove si vede dove no. Scusa, ma il pizzetto qua questo è più basso con il più alto. E' quello vecchio sotto. Non l'ha fatto. Anch'io c'ho la macellatata ma... Se vado in giro... L'ombra sotto è il tatuaggio vecchio qua. Vedi che gli ha interrotto la barba e gli ha lasciato sotto il vecchio? Sulla guancia di sinistra è quello vecchio. Vedi lì? Sul cappello qua è quel vecchio. Tutto, tutto, tutto vecchio. Sotto a... Cos'era? La pistola questa? Si vede. Sotto il cappello c'ha anche il cheloide. Eh sì. Si vede. Gliel'ha ringiovanito il cheloide. Però gli ha fatto una benda nera. Gli ha cavato un occhio. C'è un pirata con l'occhio di vetro ma senza benda. Vabbè, gusti. Sì, gli ha fatto una crepa come se fosse una cicatrice un po' aperta. Si vede. Il naso? Il cappello di destra si vede. Il naso si vede. Il punto luce ce l'ha di qua perché gli ha luto. Ma il problema più grosso l'occhio di destra che ha il sopracciglio tutto nero l'occhio di nero e anche dove ha messo il bianco c'è tutto nero. Il punto luce ce l'ha sotto la riga nera c'ha l'eyeliner bianco sto pirata. No, ma la cosa bella è non è il punto è l'acqua del riflesso della luce. Ah, ok. La cosa bella non è che gli ha messo il punto luce nell'occhio no. Ha riempito tutto l'occhio di bianco fa nel dubbio io non so dove mettere il bianco c'è un altro piatto il punto luce l'iride e tutto il bulbo c'è un bulbo oculare piatto tutto l'occhio fuori l'occhio dentro e il punto luce e poi ha detto nel dubbio facciamo anche una riga sotto per accentuare un po' di punto luce ma poi scusa la barba qua cos'è una corda marinaresca anche lui ha l'occhio a led cioè esce la luce dall'occhio quello che è bianco l'incavamento dell'alba si è pericoloso non si capisce neanche se ha dentro il nero o il bianco cioè va fuori faglielo nero se lui ha il bulbo chiuso questo è proprio da denuncia no ma questo questo sembra quello davvero che pubblicano sulle pagine robe orribili introvisati si sicuro ma anche la barba cioè tu guardami la barba io ti faccio vedere i ragazzi che ho io quando li ho presi che non erano un apprendista erano prima chiaro non fanno ste cose ma no ma non li fai neanche avventurare a fare una roba così complicata già una cover la devi fare con un'esperienza ma una roba così alla base vuol dire che tu non sai come coprire sai che non riuscirà ma anche su pelle pulita c'è il disegno così anche su pelle nuova è fatto male ma questo l'avrebbe fatto male a priori anche se sotto non avesse avuto una cover perché comunque è steso male il colore le sfumature sono massacrate se non ci fosse stato sotto quello vecchio questo sarebbe fatto male tanto quanto io gli avrei fatto male a lui è male su male ma è malissimo questo è schifo mamma questo è proprio brutto questo è schifo no 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 non ci puoi vedere del buono non riesco a non guardarlo però però ti era suo fascino vedi continui a guardarlo non ce la fai non guardarlo non riesco a capire dove cioè quanto dovrei essere ubriaco marcio per riuscire a fare una roba così ma marcio dovrei essere proprio da non riuscire per me anche macchinetta spenta e continuo a passare di sopra tanto è massacrato oppure hai un vuoto temporale non ti ricordi come si tatua tipo hai preso una botta un giorno dopo fai finta che ti ricordi come si tatua e fai queste robe mamma mia è osceno è osceno sei geloso effettivamente sì chi ha più colpa chi provoca questa istiganzione io la so a delinquere io la so è la risposta già chi ha più colpa la mamma di sketch vai al cinema vai al cinema mamma di sketch vai al cinema ci sono tante mamme che picchiano i figli anche in età adulta qua lo dovreste proprio ma dargliele ma dargliele oppure il sketch se avessi un momento di lucidità dovrebbe piccare sua mamma per dire che cazzo hai fatto c'è lo stesso sketch rendendosi conto va bene le cover sono finite detto questo non ci rimane che salutarvi ricordate ricordate di mettere un bel like se vi è piaciuto il video commentare qua sotto insultare tantissimo Paolo perché ormai è una prassi che va fatta ricordate di iscrivervi al canale per il momento ciao alla prossima ciao buongiorno ma lei è sketch è certo eh io vorrei coprire una roba certo realistica ovviamente ovvio dovrei coprire una roba che ho sul petto c'è scritto perdonami madre per mi tatuaz non riesco a buttare non sono abituato i capelli indietro voglio questo ricordo nell'etere in internet di te col caschetto io a fianco a te io voglio questo ricordo ma tu avrai questo ricordo